le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 21 pinocchio è preso da un contadino il quale lo costringe a far da candaguare un pollaio pinocchio come potete figurarvelo si dette a piangere a strillare a raccomandarsi ma erano pianti e grida inutili perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva intanto si fece notte un po per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi il burattino principiava quasi a svenirsi quando a un tratto vedendosi passare una lucciola di sul capo la chiamò e le disse o lucciolina mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio povero figliuolo replicò la lucciola fermandosi impietosita a guardarlo come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e ma l'uva era tua no e allora chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri avevo fame la fame ragazzo mio non è una buona ragione per potersi appropriare la roba che non è nostra è vero è vero gridò pinocchio piangendo ma un'altra volta non lo farò più a questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che gli mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta presa al trabocchetto della tagliuola e la sua maraviglia fu grandissima quando tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo ah la dracchiolo disse il contadino incollerito dunque sei tu che mi porti via le galline io no io no gridò pinocchio singhiozzando io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva chi ruba all'uva è capacissimo di rubare anche i polli lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo e aperta la tagliuola afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa lo scaraventò in terra e tenendogli un piede sul collo gli disse oramai è tardi e voglio andare a letto i nostri conti li aggiusteremo domani intanto siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte tu prenderai subito il suo posto tu mi farai da cane da guardia detto fatto gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni d'ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci neanche la testa di dentro al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro se questa notte disse il contadino cominciasse a piovere tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per quattro anni al mio povero cane e se per disgrazia venissero i ladri ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare dopo quest'ultimo avvertimento il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo della fame e della paura e di tanto in tanto cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola diceva piangendo mi sta bene purtroppo mi sta bene ho voluto fare lo sbogliato il vagabondo ho voluto dare retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre se fossi stato un ragazzino per bene come ce n'è tanti se avessi avuto voglia di studiare di lavorare se fossi rimasto in casa col mio povero babbo a quest'ora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane da guardia alla casa di un contadino se potessi rinascere un'altra volta ma oramai è tardi e ci vuol pazienza fatto questo piccolo sfogo che gli vede proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò